Sempre dalla tradizione degli immigrati europei in America, ecco un altro panino speciale che PN Box prepara per noi. Brooklyn Fish Sandwich. Un pane croccante, una sardina infarinata e fritta dei nostri mari, per rendere unica un'esperienza di gusto incredibile sul nostro piatto. Con cosa? Il tutto reso armonico da una salsa di cipolla marinata, pomodoro e tabasco. Eccolo qui, semplice, genuino, armonico e gustoso.